Benissimo, torniamo qua allo studio 42, questa è una gesta studica in trasferta da dentro un'altra, lo mettiamo chiaramente qui in diretta, abbiamo ascoltato le spieghierate con Matteo Marchegini, Anderka e Vinede, andiamo avanti perché c'è un appuntamento che vogliamo scolineare in piazza globale tra 21, perché un ponte per presenta questa emergenza guerra tra Libano e Iraq, quindi direi che l'attualità, il problema credo che non vada minimamente un segno, più di tanto l'ho discusso perché mi sembra benissimo, ripeto la parola anche per una parte a corte, non sarà Paola Gasparoi ma Carlo Buona e quindi direi che la parte della domanda è a concreto, ma subito dicevo Nadia d'Arco del Ponte Per di Bologna per presentare questo fatto un po' il senso che ha anche questo testimoniato da questa unità, Nadia. Ciao a tutti, io appunto ho pensato di portare qui al Peste dell'Ontario, un luogo dove tanta gente tutte le sere qui, portare il problema della guerra, dell'emergenza guerra, infatti la serata si chiama emergenza guerra tra Libano e Iraq, perché quest'ultima guerra in Libano ha cambiato molto la situazione, pochissime persone, noi di un ponte ci siamo subito attivati per tutta la città e la provincia, ma abbiamo trovato molte differenze da parte della gente, cosa anche a livello internazionale e per questo motivo che sono molto lieta che abbia accettato l'invito, sia a Carlo Pona che è fino a una settimana, e lui si parlerà stasera di qua non è Tarek Alderagi, che è il direttore del centro di diritti umani di Pallugia, che ci ricorderà come ancora oggi a Pallugia sono presenti i checkpoint, la gente non riesce a vivere in una città distrutta, ancora assediata, ancora chiusa, e ci riporta a un iraio di assistenza sanitaria, di scuole, di asili, ed è tutto, è veramente un'istituzione radicata nel territorio e nella società libanese, di cui il libro non può fare solitamente a noi, è un modello di vita che può essere la sharia che invece è l'articolo. La questione è stata passata da Giro, che è stata passata da Giro, e ci sono delle caratteristiche che sono presse quando abbiamo in Friese. La lasta è quella, questa è la chiamata, che ha detto di aver messo, potre le posto di queste caratteristiche che hanno presse, per questo giro e l'attività della tua associazione, dell'organizzazione? Prima di noi crediamo che le forze americane facendo molti errori e inoltre non solo i risultati o alcuni errori, quindi noi vediamo in questo momento la violazione e l'uso di criminali continui a farlo. Continuamente continua a fare degli errori all'interno dell'Iraq e non solo per quanto riguarda i crimini ma anche per cose che non coinvolgono al crimine, quindi che la violazione dei diritti umani continua. La nostra organizzazione sta cercando di portare il diritto internazionale dentro l'Iraq e sta cercando appunto di motivare l'opinione pubblica e scuotere l'opinione pubblica rispetto a quello che sta succedendo. Dice che quando noi diamo testimonianza, cerchiamo testimonianza per tutti questi crimini, perché quando noi diamo testimonianza, cerchiamo testimonianza per tutti questi crimini, questi gli errori che stanno facendo, noi chiediamo alla comunità internazionale di dare un occhio, di essere, di prestare attenzione a tutto quello che sta succedendo. Siamo arrivati a prendere le testimonite per lanciare la presa in Iraq e l'America. Inizia a questo comitato di arrivare in Iraq, l'intelligenza del Ministro di Defensa ha preso tutti i rilasciati di questa ragazza e ora le trupe per preparare di prendere le testimonite per l'America. quello che è successo con i soldati che hanno fatto violenza alla ragazza, gli americani prendono tutti i testimoni tra gli americani e li vogliono portare tutti in America per quanto riguarda appunto questo processo, ma solamente per quanto riguarda l'America, solamente dentro l'America e non al di fuori. La stessa criminalità è stata tutta l'interno della terra, come in Ciaudria, e hanno chiesto di grattarti gli americani perché non ha lasciato un registro di torsione in Ciaudria. Le loro chiesto non ha fatto l'interno della terra? Cioè la stessa parte che investiga queste torture sono gli stessi che in realtà commettono queste torture quindi tutto si svolge all'interno dell'intelligenza americana e non al di fuori Ecco ma in questa situazione che tipo di affidabilità, di possibilità c'è per le cittadine irachiane di contare sul governo che si dà a Baghdad? Quindi quali sono le possibilità che un cittadino irrappone può contare sul governo di Baghdad? Il governo di Baghdad non ha la possibilità di fare niente Dice che il governo di Baghdad non ha assolutamente il potere di fare niente Cioè gli americani stanno cercando di impedire che i processi siano fatti all'interno di tribunali iracheni quindi sottolinea sempre il fatto che tutto fatto all'interno di tribunali americani l'intelligenza americana è tutto fatto all'interno dell'interno americana Dice che l'america impedisce che si facciano delle investigazioni sui crimini fatti dagli iracheni perché sono all'interno americani No, no, c'è alcuni strumenti dentro del governo che anche coinvolgono il crimine o la violazione e prendono la protezione dall'interno americano quando il governo o la persona che va dentro dell'interno americano e vuole fare qualcosa non possono perché gli americani proteggono il gruppo criminale Sì, sempre lo stesso discorso che quando gli iracheni cercano di fare qualcosa non possono perché gli americani comunque proteggono tutti i criminali Oh, in questi mesi la struttura non è migliorata allora Sì, non è migliorata La libertà e le democrazioni non vengono dall'interno americano ma vengono dalla gente Dice che la libertà e le democrazioni non vengono dall'esterno della nazione ma vengono dalla gente Dice che la gente non può portare e praticare soprattutto la libertà e la giustizia senza praticare la legge senza comunque un codice appropriato E dice che adesso la situazione in Iraq non è assolutamente controllata dal popolo iracheno ma solamente dagli americani e anche dagli inglesi Dice che l'unica cosa sarebbe che gli americani e gli inglesi se ne andassero per lasciare finalmente decidere il popolo iracheno E poi anche per creare un nuovo esercito iracheno Per incoraggiare il diritto iracheno E per lavorare contro qualsiasi violazione o crimine che viene commesso dentro all'interno dell'Iraq E che possa finalmente impedire la dittatura in Iraq e non tanti piccoli dittatori in tutta l'Iraq invece che uno Si, nel mio senso vuol dire che da settembre proprio ritrare finalmente italiani dalla Siria E da settembre italiani E' stato il responsabile di un Ponte Per a Bologna E vi ringrazio di essere intervenuti a questa serata Perché è importante che anche in un ambito di festa, di divertimento Ci fermiamo un attimo a riflettere Questo filmato che vi abbiamo proposto E' stato fatto da Rai News prima della guerra del Libano Questa guerra ha portato le stesse tragedie che noi abbiamo conosciuto e di cui ci siamo indignati in Iraq Se vedete nel nostro banchetto sotto il portico abbiamo fatto una mostra di foto mescolate tra quelle di oggi del Libano con quelle dell'Iraq Sono sovrapponibili, indistinguibili Sicuramente noi possiamo vedere che sono i civili, i bambini in entrambe queste guerre coloro che hanno pagato il prezzo più alto L'emergenza guerra è qualcosa che ancora oggi è lontana dall'essere sconfitta da tutti i nostri tentativi di quello che chiamiamo pace Fare pace vuol dire una rivoluzione che ancora nessuno ha voluto fare Vuol dire non più corsa agli armamenti, non più corsa alla tragedia della guerra per derimere le questioni internazionali Abbiamo visto nel Libano una cosa assolutamente assurda Nell'indifferenza più totale un paese ha aggredito un altro stato sovrano L'ha raso al suolo con tutti i suoi abitanti e abbiamo notato come l'ONU ci ha messo ben un mese per arrivare a questa risoluzione che dà sì una tregua di cui siamo contenti tutti quanti ma che è ben lontana dalla pace Pace è altro e questo sistema non fa altro che riprodursi in una distruzione, uccisione e ricostruzione Dove anche l'Italia ha la sua parte, gli interessi internazionali continuano a far sì che dobbiamo Persino a sue faccia questa immagine di dolore al punto che cambiamo canale Lo troviamo anche, perdiamo l'attenzione Noi di un ponte per che da 15 anni ci occupiamo di queste cose e da 10 siamo in Libano come Carlo Pona ci dirà ancora meglio Ci siamo mobilitati dal primo giorno di guerra e in questi quasi due mesi ho potuto constatare l'indifferenza cittadina Almeno sull'Iraq c'era una mobilitazione, almeno amministrazioni, partiti politici facevano documenti, azioni Qui invece c'è stata un'ambiguità ancora maggiore, un silenzio colpevole Perché le vittime innocenti non meritano addirittura che noi rimaniamo in silenzio Oggi si parla di questa missione italiana che dovrebbe partire a giorni Ma è una missione armata, è una missione insicura, non è ancora pace E adesso io vorrei intanto presentare i nostri grandissimi ospiti Al mio fianco Carlo Pona di un ponte per il responsabile dell'area Libano Noi ci siamo occupati in questi 10 anni dei campi profughi palestinesi in Libano Ed è reduce da un viaggio a Beirut, tra l'altro ancora prima della tregua E insieme ad altre organizzazioni e associazioni italiane che erano andate appunto a parlare di pace E poi graditissimo ospite Mohamed Tarek Alderaji dei diritti umani di palluja Una palluja di cui ancora vediamo esistono i check point Ancora vi è distruzione, ancora vi è occupazione Dall'Iraq quotidianamente abbiamo bollettini di uccisioni, di violazioni dei diritti umani Abbiamo ancora dei carceri che non sono stati chiusi Abbiamo torture, questo meccanismo che porta alla guerra E' un meccanismo perverso che ancora noi non riusciamo ad erire E questa cosa, non dobbiamo mai essere assuefatti a questo ruolo L'indignazione che è l'ultima cosa che ci rimane e che ci deve rimanere Deve darci il coraggio di dire basta E ora vi passo Carlo, anzi prima Mohamed, visto che abbiamo aperto con un filmato su Dira Che ci racconterà che cosa è oggi l'Iraq E innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questa serata Questa è la quinta volta che io visito questo paese e i nostri amici italiani Con fatto, se года tra le paese e gli altri non conoscerli La norma importante come effetti la città E ci siamo altri garlic parli che la maggior parte dell'informazione, degli elementi in termini dell'Iraq la mass media non le trasmette. Da 35 anni l'Iraq ha vissuto sotto il regime dettatoriale di Saddam Hussein. Saddam Hussein non poteva rimanere in Iraq da 35 anni se non fosse il sostegno della prepotenza mondiale. Questi delitti che ha causato Saddam Hussein in Iraq sono complici anche dai paesi occidentali americani. Noi siamo la prima civiltà che ha conosciuto i diritti umani, la prima civiltà che ha votato per la democrazia e per la libertà. Noi siamo tanti diversi tra la profonda smalotta per la democrazia e la libertà. Noi siamo tanti diversi tra i diritti umani. Ma che all'Iraq ha avuto l'Iraq ha avuto l'indipendenza, 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 l'indipendenza. Noi siamo faiciati che ci sono dei diritti umani, la libertà e la libertà. Noi siamo tanti diversi tra le libertà. Noi siamo tanti diversi tra le libertà e le libertà. Nel suo interno non ci sono spaccature tra il popolo. C'è una miscolazione tra i Sunniti, i Cristiani e i Musulmani che nell'arco della storia non hanno mai avuto problemi. Ma la strategia dell'Occupato, dell'Israeli, dell'Americani e dell'Inglese era proprio la strategia di dividere quel popolo. E hanno consente questo consulio del governo provisorio in Iraq per poter spaccare e dividere il popolo iraqino. Quindi quello che è stato è che la progettazione dell'ideologia anglo-americana era quella proprio di poter mettere nella realtà l'assieme dell'odio costruito dalla minoranza, non del popolo irachiano. Quello che sta accadendo oggi, quello che chiamano loro, quello che chiamano loro, quello che chiamano loro e la guerra tra i civici e i suniti non è niente altro che una strategia del sistema anglo-americano. Dopo il bombardamento di Samarra ha invitato questa minoranza a seminare il suo progetto di bidire il dottore irachiano. Ma come era il tabjiri ha chiesto di fare il tabjiri? Questo bombardamento era proprio studiato da parte dell'occupato con una corrente di sostenitore traditore di Roma. Il progetto era quello di... entro 12 ore era progettato per bombardare tutta la zona. e tutti i ragazzi di Samarra erano proprio lì, dicevano che proprio l'inglesi, gli americani e gli spie arabi erano lì proprio un'ora prima del bombardamento. Quando erano anche la collina dei suoi progetti, gli moschei, gli moschei, gli moschei e i suoi progetti per non conflire le sue protesti terroristi, ma proprio per creare confusione all'interno della città di San Maraccio. E' la prova che gli americani, gli inglesi e i loro agliati avevano proprio un filo, un progetto per poter andare oltre San Maraccio. C'è un'altra cosa che viene mai in alcune delle città di un'università. Di 1.500 gattini di Bargdà, circa circa 1.500 cittadini al mese. Nel anno scorso, circa 13.000 civili. Se non sappiamo se quest'anno saranno diposti di più. più o meno e se loro hanno perso la sicurezza il loro pretesto di creare la sicurezza per il popolo erano perché sono là? abbiamo una prova di un film che abbiamo lasciato al governo britannico di un credente iraniano che abita a Londra che fa una campagna per uccidere i Sunniti e distruggere le loro mosche e questo prima di bombare la divisione del popolo erano qui e abbiamo mandato al governo britannico al signore Angloum e abbiamo lasciato la prova proprio di questo terrorista all'interno delle società inglesi che promuove la morte e la divisione della città iraniana e voi avete una legge che un'unice di attività all'arrabe e voi avete un'unice di attività all'arrabe Un'altra parte, c'è un'esplice che è venuto a l'arabia dell'arabia e dell'arabia 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 dell'arabia. Un'altra parte, c'è un'esplice che è venuto a l'arabia dell'arabia. Un'altra parte, c'è un'esplice che è venuto a l'arabia dell'arabia 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 dell'arabia. Quando sono arrivati queste armi in Iraq, il governo britannico ha chiamato il suo Parlamento. Un'altra parte, c'è un'esplice che è venuto a l'arabia dell'arabia 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 dell'arabia. Questo rappresentante del ministero dell'estero ha rifiutato di rispondere a queste domande. C'è un'esplice che è venuto a l'arabia dell'arabia 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 dell'arabia. C'è un'esplice che è venuto a l'arabia dell'arabia 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 dell'arabia. Il ministro della difesa bosniaco ha detto che queste armi sono arrivati all'Iraq. Loro avevano la prova che queste armi sono arrivati all'Iraq. e questa è una prova in più che dimostra che il governo anglo-americano sostiene questa minoranza di loro albiage per poter distruggere proprio la base dell'arabia 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 dell'arabia. Quello che avete visto nel primato non è niente altro che è una piccola parte dell'inquinamento ambientale dell'arabia. E che parte della decisioni gubernative la tiene? Ci sono 312 volt inquinati in Iraq. 150 di questi posti sono pericolosi. Il percentuale della gente che sta per riscaldi di avere il cancro sono 22 mila. Se il popolo irakieno è 26 milioni irakieno e 12 milioni di gente a rischio di cancro. Quando rimanono del popolo irakieno? Facciamo una domanda agli Stati Uniti perché non fate una pulizia generale all'ambiente in Akhena? E loro rispondono che ci vogliono un consiglio internazionale che poteva fare questo lavoro. Immaginate che l'Iraq è un paese di seconda potenza che non riesce a sostenere la parte della potenza per curare il suo ambiente. Se vogliamo parlare delle trutture e del crimine da parte del governo, scopriremo che la più drammatica violenza, il diritto umano, la più drammatica truttura è quella di giardiria. Il ministro della difesa ha detto che sono sette persone e non sono state torturate. E loro hanno, le loro organizzazioni, i diritti umani hanno delle statistiche che dicono che sono stati più di 200 uomini che sono stati torturati a morte. E fino ad oggi loro rifiutano di dare questa notizia. L'organizzazione per i diritti umani di Ginevra ha rappresentato una domanda per poter andare a indagare questo avvenimento. Il mondo intero sa che il progetto della morte si stimola da... L'organizzazione per i diritti umani di Ginevra ha rappresentato una domanda per organizzare questi gruppi della morte. Ginevra ha rappresentato una domanda per i diritti umani di Ginevra. Tutti avete sentito una notizia di Mahmoudia. La bambina che è stata violentata, bruciata, viva con i suoi familiari. L'America, il rosa ha rappresentato una domanda per gli uomini di Ginevra. L'estato americano ha arrestato tutti i familiari, tutti i testimoni che possono dire qualcosa di contrario di quello che è l'interpretazione americana. E' un'organizzazione americana che si sta indagando per poter arrivare a una verità che è mai possibile. E' un'organizzazione americana che si sta indagando per poter arrivare a una verità che è mai possibile. Poi ci sono le bombe che uccidono quotidianamente bambini, donne e uomini. Se voi sapete che l'organizzazione di questa forza mondiale americana inglese non riesce proprio a individuare un gruppetto, secondo le loro interpretazioni, che crea questa confusione. Come ha detto che la sua famiglia è stata fatta a Mbqal e a Mbqal e a Mbqal? Un mese fa nella zona di Zafarani c'è stato un avvenimento. Come ha detto che la sua famiglia è stata fatta a Mbqal e a Mbqal e a Mbqal? L'interpretazione è che era una macchina piena di bombe che si è esplosa e che ha fatto 75 bambini morti. Come ha detto che l'organizzazione americana è stata fatta a Mbqal e 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 a Mbqal. L'organizzazione americana è stata fatta a Mbqal e 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 a Mbqal. La causa della morte non era un cambio pieno di esplosivi che esplosano, secondo l'interpretazione dell'Iran, ma erano proprio tubi di gas che provengono dal Tiran e che erano tutte cose che hanno causato queste cose. La domanda è che non c'è stato mai qualcuno che ci ha già dato di dire che bisogna condannare il ministro di petrolifero. Noi attualmente abbiamo il 75% di mal-amministrazione del governo italiano. Il problema è che adesso hanno cominciato a indagare anche su cosa rubare la domanda. Loro si preoccupavano perché hanno paura di questo, ma la mal-amministrazione si trasforma anche all'interno dell'estato americano. Mbqal e Mbqal e Mbqal e Mbqal e Mbqal e Mbqal. Il ministro dell'informazione è Mbqal e Mbqal. Mbqal e Mbqal e Mbqal. E' quello che è il campo anglo-americano. Se l'America ha in mano questo comandamento, insomma, non di esercito ufficiale, più di esercito inglese, più terzo esercito non nominato americano, ma perché non lasciano l'autonomia al popolo e le dipendisse del popolo europeo? Mbqal e Mbqal e Mbqal e Mbqal. Mbqal e Mbqal e Mbqal. Mbqal e Mbqal e Mbqal e Mbqal. Mbqal e Mbqal e Mbqal. Mbqal e Mbqal e Mbqal e Mbqal. Mbqal e Mbqal e Mbqal e Mbqal e Mbqal e Mbqal. Mbqal e Mbqal. Mbqal e 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 M Quello che ha detto è questa verità. E vi ringrazio, mi scuso per il diritto. Come abbiamo sentito la situazione guerra presa da le fabbriche d'armi, dal commercio, delle risorse, ci porta come sempre, come vi dicevo all'inizio, a un meccanismo che è lontano dalla pace. Vorrei ricordare che se si parla di tregua in Libano, non si parla di tregua a Gaza. Ci sono 10 bombardamenti al giorno. Mi ricordo che a Gaza e in Libano si stanno cercando le prove di bombardamenti con le nuove armi, per cui non solo Cospero, ma si suppone e si stanno cercando le prove anche delle nuove armi ad energia. E poi vi volevo comunicare che il dottor Tarek sarà ospite in Italia, grazie a nostra organizzazione e all'università che ha accettato che Mohamed potesse fare una ricerca sulle conseguenze dei bombardamenti del fosforo a Fallujah e in Iraq. Queste armi che così bene Toreat e Ranucci ci hanno illustrato, in realtà noi non sappiamo quali siano le loro conseguenze sulla genetica umana, sulla genetica animale, sul territorio. Sappiamo oggi che ancora in Jugoslavia le persone muoiono a causa dei bombardamenti all'Urano impoverito. Sappiamo che alcuni soldati che sono stati in Iraq nel 1991, in Bosnia, anche i nostri italiani che sono stati in Kosovo e in Afghanistan, hanno la cosiddetta sindrome del golpe, ma che sarà con l'avvento di queste nuove armi e che sarà con la conseguenza del fosforo? Intanto sentiamo da Carlo Pona il diario del Libano. Sì, grazie. Quest'intervente va a prendere in mente tantissime cose, anche con questa potrebbe essere qualche cosa. Per il momento li vediamoci nel Libano, poi c'è una cosa che ci sono domande. Quanto riguarda il Libano è che comincia dalla fine, c'è dalla Liga 701, c'è la soluzione dell'ONU che ha in qualche modo sancito questa tregua di 10 giorni fa. Noi chiaramente non siamo estremamente contenti di cosa andate le cose, di come ci sia continuamente bisogno di soluzione dell'ONU per risolvere questi problemi, che può risolvere. Ogni risoluzione dell'ONU di questo tipo è un riconoscere, un confermare che la diplomazia non è stata capace di fare granché, specialmente nel Medo Oriente. Tanto è vero che la prima volta che l'ONU si è occupata del problema israeliano-palestinese, ma israeliano-arabo, in senso lato, fu nel 1947, nel novembre del 1947, 59 anni fa. 59 anni fa l'ONU decise, a maggioranza, quindi neanche con un voto unanio, una massetta maggioranza e anche con dei forti dubbi su come questa maggioranza fu raggiunta, di considerare lo Stato ebraico sul territorio abitato da Arabi. A quel tempo la popolazione ebraica era molto, era una minoranza rispetto al numero di Arabi che presenta sul territorio, senza neanche chiedere se gli arabi non fossero d'accordo. Tanto è vero che l'esoluzione passata fu accettata da quelli che possono diventare israeliani, non fu accettata da tutti i paesi arabi. Ci fu una guerra, l'odierno Israele, prima di dichiararsi stato indipendente, occupò i territori, gran parte dei territori che erano destinati allo Stato arabo, tra cui il nord di Israele, la Grelea, di cui esistono parlate molto in questi giorni, e l'ONU non ha fatto altro che riconoscere invece come confini quelli dell'armistizio, cioè quelli conquistati con la guerra. Per cui dello Stato arabo che non si è sentita più parlare, e forse quello è il primo grande errore che fu fatto, perché ovviamente già da loro non pretese l'applicazione di quella esoluzione, quantomeno per la creazione anche dello Stato arabo, di cui oggi si continua a fare dopo 59 anni. Da allora guerre ce ne sono state, le esoluzioni che sono state che tornavano 50-60, forse anche di più, le esoluzioni che hanno chiesto il ritorno dei palestinesi espulsi da quello che oggi è Israele nel 1948, il diritto al ritorno dei propri nei loro obbligazioni, l'obbligo di Israele di tirarsi dai stati occupati nel 67, da quelli occupati nel 73, per liberare i territori occupati in Siria, in Libano, in Egitto e in Giordania, tante di queste cose. Anche l'esoluzione ha chiesto la familiarizzazione della zona, in particolare di riferimento con le armi nucleari. Ora Israele sappiamo che ha 200 pasta testate nucleari, non dichiarate ufficialmente, ma le ha. Israele è uno dei pochissimi, forse non sono l'unico Stato che non ha aderito a trattare l'operizzazione atomica, quindi possiede queste armi, tutti sanno che le possiede, non l'ha mai riconosciuto. Per cui dopo 59 anni un'altra risoluzione è un fatto che è sancire quello che è stato il problema di partenza. Cioè è chiaro che se non esiste una rivoluzione in grado di risolvere i problemi con la politica, è chiaro che qualcuno cerca di risolverli con la forza. E questo è quello che secondo me Israele ha fatto in 60 anni. Israele non ha mai cercato di venire in conto, di parlare con i paesi confinanti, visto il modo con cui si è installato in quella zona. Forse era necessario comunque un rapporto tra un paese che da 60 anni risolve solo bene una forza e con i paesi confinanti. Detto questo, chiaramente la 1701 oggi rappresenta forse comunque uno strumento per essere arrivato in un cessato del fuoco che tutti quanti abbiamo aspettato per l'altro mese quando c'era Natia all'inizio. E che comunque ha fermato la carne vicina perché andando a visitare il sud di Beirut e vedere quello che è successo, quello che è stato possibile fare in un mese di mobbandamenti è qualcosa veramente di allucinante. Cioè abbiamo visto anche l'impossibilità di entrare in questi edifici bombardati per giorni per recuperare morti perché continuavano a bombardare. Noi siamo entrati in un edificio che si è bombardato uno o due giorni prima e che ancora fumava, è stato dato a fuoco. E' stato un fuoco e in quel momento c'erano i vigili del fuoco, volontari che cercavano di trovare persone sperando fossero vivere sotto le macerie. Quindi veramente qualcosa che presenta, presenta per dire il gelocidio, senza esagerare con termini grossi, sono comunque un massacro di un popolo intero e comunque quelli che secondo noi sono dei primi di guerra. Ricordiamo tanto per fare un esempio che la Convenzione di Ginevano del 77, dieta, classifica come primi di guerra anche soltanto le minacce di terrore, cioè minacciare un popolo anche senza tanto colpirlo. Per esempio il volantinaggio che veniva sistematicamente effettuato dagli aerei, dagli elicotteri israeliani sul Beirut, sul Sud, sul Tito, sul Titone, invitando la popolazione a lasciare le loro abitazioni perché avrebbero bombardato, di pensare già questo è un crimine di guerra. Per cui immaginate voi, come diceva lei, distruggere completamente le infrastrutture di un paese che era uscito faticosamente dopo 15 anni di quella civile, quello che poi è comportato da questo paese. Un paese che poi ha vissuto, come sappiamo, diverse invasioni israeliane, senza parlare del 78 che però fu la prima dell'invasione che portò alla creazione della Univill, che è quella che tutt'oggi potrebbe essere ampliata, ma nell'82 Israele, allora come l'esercito israeliano, allora capeggiato da Sharon, arrivò da confine fino a Beirut, neanche una settimana, perché allora fu spalleggiato dagli eserciti maluniti cristiani che erano alleati degli israeliani e cui allora approfittò di una situazione di quella civile in Libano per preoccuparlo, fu spalleggiato per questi, in particolare delle forze malunite di Gemayel che spalancavano le porte di un paese nazionale. Evidentemente questa volta pensava di fare la stessa cosa, ha trovato di fronte un paese invece unito, noi abbiamo verificato questa unità perché abbiamo parlato con lungo con ONG libanesi e palestinesi che lavorano in Libano, sin dal giorno dopo della guerra, dal petesto con cui Israele ha rioccupato il Libano del Sud, tra l'altro ricordatevi che i due soldati israeliani sono stati catturati in territorio libanese, per cui questa cosa non viene mai citata dalle fonti giornalistiche italiane, non si è mai saputo dove erano questi soldati israeliani, in realtà stavano in Libano, per cui è abbastanza singolare che qualcuno non pensi che sia normale che i due soldati in un paese pariscono in un altro paese e vengono catturati, si sembra molto, effettivamente tutto testo è un petesto. Stretto proprio di questo, è vero che prima c'era stata una provocazione di svolà in territorio israeliano, però la Unifil, se andate a leggere anche su internet, perché è disponibile, i rapporti dell'Unifil al 78 oggi, praticamente hanno riportato 17 mila incursioni israeliane in territorio libanese, da bombardamenti, azioni di terra, bombardamenti via mare e via terra e ravvimenti e distruzioni, quindi 17 mila a uno e questi sono dati dei scontrabili, per cui chiaramente l'Unifil non poteva fare il granché, stava lì, registrava ogni settimana, mandava un comunicato al segretario delle Nazioni Unite e questi prendevano atto di questa cosa, perché non c'era nessun modo per impedire che queste incursioni venissero effettuate. La più grave di questo, probabilmente fu quella del 96, che ancora a Cana, come quest'anno, bombardò un centro dell'ONU in cui si sono rifugiati un centinaio di sfollati libanesi uccidenti nel 104, in regione del 96. e detto questo, la situazione è, diciamo, probabilmente in questo caso israeli contava uno di la relazione degli esbollanti in tre o quattro giorni, come pensavano gli americani in Iraq, tre anni fa, quattro, cinque anni fa, quattro anni fa, tre anni fa, e questo non è successo. Secondo di dividere il paese, perché dicevano, tutto il paese capirà che questa incursione è colpa di esbollare, quindi si spaccheranno. Non è successo. Anzi, abbiamo riscontrato al punto, come dicevo prima, che il paese Libano è quanto mai unito contro questa aggressione, è quanto mai unito nella ricostruzione che verrà, ed è stato quanto mai unito nel soccorso agli sfollati. Questi sfollati che dal sud hanno raggiunto tutto il Libano, molti sono rifugiati in montagna, moltissimi a Beirut, hanno occupato un parco al centro di Beirut, a Sanaieh, e infatti questo condimento di Onghi, prendendomi da questo parco di Sanaieh, dove si sono arrivati a centinaia e migliaia di sfollati dal sud, ma anche al nord, anche nella Bekka. È stato sorprendente che ci ha sorpreso molto il positivo, perché noi, come diceva Nadia, abbiamo lavorato moltissimo a contatto con i profughi palestinesi. molti sfollati hanno cercato rifugio nei campi profughi palestinesi e l'hanno trovato, perché parossalmente, assurdamente, in questo caso, mentre negli 82 i campi profughi palestinesi furono rasi al suolo da Sharon e da Saci Rosaliano, questa volta sono stati risparmiati per la gran parte e migliaia di libanesi hanno cercato di rifugio nei campi profughi. La nostra situazione di parte si è sacrificata in maniera incredibile per raccogliere centinaia di famiglie libanesi. I palestinesi in Libra vivono una situazione terribile, di immaginazione, non hanno diritti civili, non hanno diritti politici, non possono lavorare, non possono fare nulla, vivono veramente dalla miseria assoluta, eppure non si sono fatti pregare dallo stornare i loro pochi soldi, i loro pochi risorse per fornire ospitalità a queste famiglie libanesi. E questo, secondo noi, è un fatto molto importante, su cui dovremmo comunque continuare a insistere per fare in modo che il governo libanese e il Parlamento libanese riconosca un minimo di diritti ai palestinesi, quantomeno quello di poter lavorare e di poter avere documenti di identità, perché i palestinesi non hanno neanche un documento di identità, hanno soltanto una carta dell'agenzia da Olu, che tessere sono profughi, e nient'altro, quindi non hanno nient'altro. Io vorrei dire che per il momento mi fermo qua, aspettando magari le vostre domande per chi alimenti ulteriori. Qualcuno di voi vuole chiederci qualcosa? C'è che è un po' duro, immagino, intervenire dopo quanto abbiamo sentito. Vorrei ricordarvi che comunque noi, come cittadini italiani, possiamo rivendicare che il diritto internazionale che è stato violato ripetutamente, che i diritti umani che sono stati violati continuamente in Iraq, in Libano, a Gaza, in questi mesi, possiamo veramente, le persone possono, abbiamo ancora questo potere di poter dire no, di poter fare appello anche al nostro governo perché queste, che sono cose ratificate a livello internazionale, siano effettivamente eseguite. In realtà tutti questi crimini non sono mai perseguiti. Si fa una fatica, come ce l'ha raccontato Mohammed, a trovare dei colpevoli su tragedie quotidiane, sull'abbruttimento che comunque porta a una guerra. Lui in questi anni ci ha mandato continuamente messaggi indirizzati all'ONU, all'UNAMI stesso, ha fatto un dossier in cui si parla di carcere e torture, un qualcosa che per noi, noi pensavamo di aver dimenticato, che fosse un retaggio della vecchia guerra che ci ha coinvolto come paese, eppure siamo ancora qui e noi esistiamo per raccontarvi che ancora esiste. un po' di popolazioni, per cui sapere che la gente che tu sai che abbia in quei posti non viene più bombardata a massacrare è un fatto positivo. Come dicevo prima, però l'invio comunque di truppe armate a risolvere queste questioni è sempre un fallimento, perché appunto questo problema vuol dire che specialmente in questo caso questo problema non è stato affrontato tantomeno risolto in precedenza, perché probabilmente se qualcuno, se l'acudente nazionale, avesse preteso rispetto delle sue decisioni da 50 anni qua, non c'errebbe solo bisogno affatto. Adesso appunto vogliamo vedere quello che andranno a fare, la risoluzione 1701 è abbastanza chiara nei compiti, intanto la Unifil non sarà preposta al disarmo di Yezbollah, il disarmo di Yezbollah dovrà essere una questione politica interna libanese, che dovranno vederse i responsabili di Yezbollah con il governo libanese, per cui questa strumentalizzazione è da parte di tutti, della stampa, della destra, sul fatto che il problema principale è il disarmo di Yezbollah, è completamente falso, l'ONU dovrebbe andare lì per il compito principale è quello di accompagnare l'esercito libanese a occupare la zona sud, dall'Itani fino a confine con Israele, quindi non si parla di dislocazione lungo il confine siriano, non c'è come vuole Israele una forza unica che rappresenta la porta di Beirut, non ci sono tutte queste cose. C'è da dire che da parte libanese c'è stata, abbiamo visto, l'ho parlato anche sia con Signora che con la Lourdes, c'è molta aspettativa da parte degli italiani, abbiamo visto che negli ultimi anni per esempio la rifluenza che la Francia aveva su questo paese è andata di pissolta anche per le politiche francesi rispetto a Medio Presidente, rispetto all'Iraq soprattutto e rispetto alla risoluzione del 1559 che la Francia ha voluto insieme ai Stati Uniti e insieme a Israele, quella del novembre 2004 se non sbaglio, che chiedeva il ritiro del senso iriano dal Libano e la smita di intenzione di tutte le milizie armate. Quella fu una risoluzione richiesta dalla Francia per recuperare posizioni dopo che era stata scazzata via dal business italiano e per guadagnarsi un ruolo del Medio Oriente, questa cosa ha fatto invece perdere la sua conscienza ai francesi e c'è stata molta fiducia, molta attenzione verso quello che poteva fare l'Italia, per cui secondo me a quel punto la richiesta di un contingente ONU è stata per venire da Libano, venire da loro. È chiaro che dal punto di vista nostro qualunque cosa in questione di questo tipo è estremamente dannosa, estremamente grave ed è comunque continuo di affermare che quello che quello che la ricomozione non riesce a fare. Anzi, questa volta sembra che, almeno rispetto a altre situazioni del passato, forse la situazione potrebbe anche essere migliore del solito, ripeto, quantomeno speriamo che consenta che i bombardamenti italiani siano finiti, almeno per un po'. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti voi. Aspetta, magari volevo dire una cosa su Esbollare, perché mi sembra che uno dei punti oscuri di questa vicenda è proprio il ruolo di Esbollare, di tutta questa storia, perché magari l'immagine che loro hanno è abbastanza distorta. In realtà noi, i nostri mezzi di informazione ci dipingono Esbollare come un demonio terrorista e basta. In realtà Esbollare è uno dei più grandi partiti senza un medico, dei politici libanesi. Chiaramente il professore di politica è discutibile, perché è un partito religioso, quindi con tutto quello che comporta essere un partito religioso, sotto qualunque punto di vista. Però comunque rappresenta una grossa fritta di quella che è la società libanese, rappresenta probabilmente, quasi sicuramente la più grande organizzazione sociale di assistenza alla popolazione libanese che esiste in Libano. Dove Esbollare non avete di strutture sanitarie, di scuole, di centri di formazione, centri per assistenza alla gente, visto che in Libano, da buon paese globalizzato, non dà nulla. In Libano non esiste un sistema sanitario, non esiste un sistema scolastico, non esiste nulla, non esiste un sistema sociale in quanto poco meno lo conosciamo. Gli unici, non gli unici, anche i cattolici fanno molto questo punto di vista. Però la più grande istituzione che comunque fornisce servizi sociali è proprio sbollato. Si è presentato alle elezioni, come tutti sapete, ottenendo risultati enormi. In alcune zone del Libano ha dovuto anche fare dei passi indietro e cercare alleanze con altre entità, tra cui anche i malonini, ha fatto alleanze con il generale Aoun cristiano in certa zona del Libano, per evitare di stradigere. Questo sarà un problema grosso, perché a quest'ora aveva avuto probabilmente un parlamento ibanese a maggioranza scena. E anche il suo fondatore nell'83, dopo l'inversione israeliana dell'82, si preoccupò allora di evitare che Sbollà, al pari della rivoluzione italiana, puntasse a costituire lo Stato islamico in cui reggessero la Sharia, pandemia, perché si rendevano conto che in Libano la situazione del genere è impossibile, per cui non è un partito integralista che vuole dominare un paese, è un partito che è molto radicato nel territorio, molto radicato sui problemi del Libano e li analizza, li capisce e davanti qui. Poi dopo che la loro visione dal punto di vista politico sia completamente diversa da quella che possiamo esprimere noi, qui sotto tanti problemi, in cominciare il problema del ruolo della donna e della società islamica, questo è un altro discorso, però bisogna riconoscere a questo gruppo che comunque in ogni caso ha garantito a Libano 15 anni dopo la confina della guerra civile, nel 90-15 anni, insieme all'esercito siriano che poi ha lasciato la Siria due anni fa un minimo di difesa del territorio, sono gli esbollacchi che hanno consentito nel 2000 la liberazione del sud del Libano dall'occupazione israeliana, il Libano del sud è stato occupato fino a maggio 2000, quindi fino a sei anni fa, da Israele dopo 22 anni consecutivi di occupazione e il sbollato sarebbe forse, anzi sicuramente l'unica forza armata in grado di provocare la sconfitta dell'esercito siriano, questo andava di fatto, anche adesso non gli ha consentito di raggiungere i suoi scopi, nonostante un mese di bombardamenti e le istruzioni totale del Libano e delle sue infrastrutture. Detto questo, non pensate che condivida le analisi politiche di Israele, perché non è il momento che si può essere, condividono. Vorrei ricordare per chi ha internet dei nostri siti www.un.eper.it, da cui potete andare direttamente al sito Emergenza Libano, dove ci sono state finora tutte le corrispondenze di organizzazioni, persone, direttamente da Beirut. Noi abbiamo avuto durante questa guerra un volontario e un cooperante sempre presenti e questo è uno sforzo veramente di cui ringraziamo tutti i volontari della nostra organizzazione, perché ci ha potuto fornire e fornirvi una verità che i media non hanno dato. In questo vi ringrazio tutti di essere venuti e veramente ogni tanto guardiamo bene a cosa vuol dire la pace e cosa vuol dire la guerra. Grazie.